Il Paese Straniero È un caso difficile, anche per te, immagino. Per tutti noi. Questa casa è requisita per uso britannico su ordine della Commissione di Controllo. È ora il vostro casa, ma noi abbiamo. Può non esserci odio, apparentemente, ma è lì, in profondità. Stai attenta, non sono come noi. Durante la guerra, ha mai sperato una vittoria tedesca? Volevo che tutto tornasse come era prima. Mi manca mia moglie. È morta nel bombardamento. Non mi hai detto cosa stava andando incontro. Non doveva andare così. Niente doveva andare così. Per favore, rimani. Ho un lavoro da fare. Non mi hai detto cosa stava andando a fare. Andrà tutto bene? Ricominceremo da capo. Non mi hai detto cosa stava andando. Per favore, rimani. Bisanto ci siano. Grazie a tutti